Su richiesta dell'autorità giudiziaria europea di Bologna, la Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per circa 2 milioni e mezzo di euro ai danni di due società operanti nella commercializzazione di bobine di acciaio inossidabile. Il GIP del Tribunale di Ferrara ha disposto la misura al termine di indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziarie che hanno interessato gli amministratori delle imprese, una con sede nel capoluogo estense, l'altra a Varese. Si sarebbero resi responsabili di una rilevante frode doganale. In sintesi, i tre sono accusati di aver spacciato per coreana merce di provenienza cinese, così da ottenere un'esenzione cui in realtà non avevano diritto e risparmiando appunto 2 milioni e 400 mila euro. Insieme al denaro le fiamme gialle hanno anche sequestrato alcune bobine d'acciaio.